bentornati sul canale youtube di round 2 pronti per un'altra anteprima vi stiamo coccolando con un sacco di contenuti specificatamente pensati per questo canale quindi se vi va supportateci potete farlo in varie maniere c'è anche un abbonamento insomma che potete sottoscrivere qua su youtube non c'è niente di particolare se non qualche emoticon ma se vi piace quello che facciamo è un altro modo per supportarci oggi parliamo di super mario rpg e ne parliamo in una maniera che mi lascia anche soddisfatto perché vi racconteremo un po com'è riscoprire questo gioco che ovviamente insomma è un remake di un titolo uscito alla fine degli anni 90 oppure scoprirlo per la prima volta perché marco non l'aveva mai giocato bisognava all'epoca essere un pochino impallinati perché la versione pal non era mai riuscita ma in realtà lo conoscevo benissimo dalle riviste ovviamente da super console eccetera eccetera ma non avevo mai avuto modo di e tra l'altro io avevo un sacco di giochi import all'epoca è semplicemente che non mi ero mai incrociato diciamo con super mario rpg che però avevo sempre guardato con curiosità perché aveva già anche all'epoca una grafica particolare mettiamola così e all'epoca era fra l'altro un prodotto abbastanza pazzo che giocava con l'immaginario nintendo in una maniera stravagante non era sviluppato da nintendo ma da square soft e fra l'altro per me è anche divertente che arrivi in un anno in cui l'immaginario di mario è stato proprio sconvolto non una ma due volte con questa tre perché c'è stato prima il film che comunque ha un pochino pensiamo solo alle parti diciamo poi c'è stato super mario wonder che insomma ve l'abbiamo raccontato ha proprio riscritto a volte anche delle regole storiche del regno dei funghi del funzionamento dei suoi personaggi e dei suoi meccanismi e adesso c'è questo remake di super mario rpg vuoi partire tu per raccontarci com'è stato giocarlo per la prima volta allora è stato francamente folgorante lo dico da persona che appunto sin da piccolo è stata un po' suggestionata da questa inquadratura vabbè io lo devo annunciare ancora una volta io se vedo qualcosa che ha un inquadratore isometrica già un po gli occhi a cuoricione qua ripeto mi piaceva tanto lo stile con cui hanno reimmaginato già all'epoca qui devo dire che sono stati estremamente fedeli all'impostazione anni 90 impostazione che trovo peraltro invecchiata divinamente nel senso che ha questo character design un po super deforme un po schiacciato con delle proporzioni bizzarre guardate anche come hanno fatto per esempio i tod che sono diversi dal solito li hanno mantenuti così e secondo me hanno fatto molto bene perché gli dà un look che da un lato è un po' vintage dall'altro comunque è piacevolmente secondo me moderno diverso dal solito e devo dire che appunto mi ha fatto un grande effetto sorpresa perché da un lato c'è tutta la tradizione mariesca anche nell'impostazione bowser che rapisce pitch eccetera eccetera c'è il preambolo è proprio quello consueto e dall'altra c'è una reinterpretazione degli stessi stileni che è pazzissima con dei girini che cantano dei personaggi assolutamente strani un velociraptor ladro il primo boss delle cose assolutamente sopra le righe che danno secondo me a questo super mario rpg un tono davvero un po fuori dal tempo cioè mi immagino oggi visto l'effetto che mi ha fatto quanto potesse essere dirompente allora oggi tra l'altro lo si gioca in una versione che graficamente secondo me è deliziosa soprattutto se giocato su oled importatile secondo me sulla tv in 4k magari come abbiamo noi l'oled eccetera qualcosina si perde però devo dire che è un c'è una gran bella messa in scena anche per merito della colonna sonora e in generale un'impostazione proprio diversa dal solito che ho trovato freschissimo sì io sono d'accordo cioè non è invecchiato di un giorno sostanzialmente secondo me ovviamente hanno fatto un'operazione di svecchiamento tecnico però è davvero un piacere da riscoprire fra l'altro secondo me sono stati bravissimi anche a all'epoca già si parla ovviamente di lavoro fatto sul materiale originale a farti entrare in contatto esatto con questa versione un pochino peculiare del regno dei funghi formalmente è ambientata nel regno dei funghi però ci sono un sacco di creature che sono stravaganti e anche di personaggi che sono atipici rispetto a quello che è l'immaginario mariesco non è uno spoiler perché si trova già scritto anche sul sito ufficiale poi nel parti diciamo si uniranno anche dei personaggi ben conosciuti come bowser e pitch però prima di trovare quei personaggi lì in effetti quelle che si aggiungono sono proprio alieni la nuvola che crede di essere un giro esatto e poi ci sarà una marionetta che potrebbe ricordare un pochino dreams da un certo punto di vista e anche l'elenco dei nemici che poi si affrontano da una parte stranissimi da una parte ci sono degli elementi classici per esempio i torci bruchi dall'altra o il gumba assolutamente dall'altra invece ci sono dei nemici proprio molto molto strani quindi è proprio un piacere anche curiosare diciamo negli anfratti di questo mondo perché è un immaginario davvero nuovo poi a livello di meccaniche di gioco dipende non so se per il giocatore odierno sarà una novità dipende se qualcuno è già entrato in contatto poi con quelli che sono stati gli eredi spirituali questa formula che sono stati da una parte alcuni dei paper mario e dall'altra invece la saga ormai defunta di mario e luigi saga che era stata sviluppata veniva sviluppata veniva portata avanti da alfa dream alfa dream che era nata proprio da una costola di square enix non so se lo sapevi ma il director di super mario rpg aveva fondato alfa dream per portare avanti quindi parentela strettissima si proprio con una filiazione con una filiazione diversa con nintendo proprio questa formula perché squaresoft non poteva portarla avanti siamo notare la verso frenix era prima della fusione quindi se già conoscete quel gameplay probabilmente qui semplicemente lo ritroverete per quelle che sono insomma le sue caratteristiche se non lo conoscete invece sappiate che non vi trovate non vi troverete di fronte a un platform classico ma un rpg in cui c'è proprio un sistema di combattimento a turni non ci sono gli scontri casuali perché si vedono nemici si può decidere addirittura se saltargli addosso e avviare lo scontro oppure no e gli scontri sono procedono da una parte alla maniera dei classici jrpg quindi c'è la possibilità di usare gli oggetti che sono ovviamente oggetti marieschi c'è la possibilità di attaccare di difendersi o di eseguire le azioni speciali che sono un po legate alla classe del personaggio la cosa interessante divertente è che per diciamo tenere alta l'attenzione del giocatore anche durante le fasi di attacco e di difesa c'è la possibilità di eseguire dei piccoli quick time event per massimizzare sostanzialmente le prove di ritmo per massimizzare i danni degli attacchi che state facendo oppure per diminuire i danni dei colpi che state ricevendo è un sistema semplicissimo di semplicemente tenere premuto il tasto a quando vedi comparire a schermo un punto esclamativo sulla testa del personaggio oppure sostanzialmente quando l'animazione dell'attacco tuo dell'avversario sta per entrare sì poi ci saranno delle piccole variazioni dell'estica analogici da si roteare però niente di e anche delle variazioni che poi dipendono dall'arma quello che ho trovato anche interessante cioè parte e per esempio mario a un martellone che ti abitua ad un certo tipo di tempismo nel corso delle prime ore puoi equipaggiarlo con un guscio di tartaruga che lui usa ma di pallone da calcio lo lancia in aria poi al volo di tira un calcio e questo ha un tempismo un po diverso ho trovato questa diciamo meccanica da rhythm game all'acqua di rose semplice ma comunque efficace non è mai un gioco questo lo posso dire almeno per le prime ore che sono quelle che sono oggetto diciamo di questa anteprima non è mai un gioco complicato anzi è un gioco che mi è sembrato tenda ad essere molto molto gestibile molto a misura di giocatore anche per un level up che può essere per tutto è molto esplicito cioè sai quanto ti manca per far passare di livello un personaggio e vedendo i nemici sulla mappa scegli quando magari è il caso di combattere un po di più e quando è il caso di farlo meno però devo dire che proprio in virtù di questa sua immediatezza di questa sua semplicità sia a livello di tasso di sfida che soprattutto proprio a livello di meccaniche cioè è un gioco che si vede comunque degli albori del genere però continua a funzionare molto bene io sono un neofita di questo di questo ambito però mi ha assolutamente coinvolto non solo con la stranezza allora io qui devo fare ricorso insomma gli strumenti della memoria mi sembra di ricordare che comunque un pochino di farming si dovesse fare e quindi qualche level up da fare prima delle boss fight soprattutto insomma si può diventare necessario sì 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 assolutamente però non è mai un gioco molto complesso non so se è un gioco che insomma a livello proprio di quantità di testo può essere adeguato a tutti gli utenti perché è vero che ovviamente la trama non è mai centrale come può essere centrale in altri jrpg non vi aspettate un fantasy o un crono trigger perché la trama è un pochino più leggera all'acqua di rose divertita sostanzialmente quindi se decidete di schippare qualche dialogo non è che vi state perdendo chissà che cosa però comunque è un gioco molto basato sui testi cioè anche quando vai in giro quelle che sono le città no sai cosa fra quello che ho notato è che devi ti dico dove devi andare sì cioè se tu non ascolti i dialoghi non sai per esempio all'inizio che il tipo la nuvola sostanzialmente deve recuperare una moneta del nonno se tu non presti attenzione a quel dialogo finisce che ti trovi a girare in giro senza capire dove la direzione in cui devi muoverci c'è comunque da leggere sostanzialmente preparatevi è un rpg fin dal titolo quindi credo che da quel punto di vista riesca a orientare bene le aspettative del pubblico io sono rimasto molto colpito comunque anche da dal lavoro che hanno fatto appunto dicevamo prima di svecchiamento un po' grafico ed estetico devo esplorare un po' meglio anche la componente sonora che l'ho trovata sicuramente molto molto piacevole credo però che sia stata riarrangiata e in qualche caso proprio sovrascritta perché mi sembra di ricordare che nella versione originale ci fossero pure delle musiche di final fantasy che ovviamente non credo possano essere mantenute in questa riedizione però devo esplorare meglio la cosa in generale però devo dire che mi ha fatto assolutamente un'ottima impressione sembrano sempre dei piccoli diorami con fondo nero che come dire svettano su schermo e che hanno una specie di corposità loro piacevolissima grazie anche all'illuminazione e alla modellazione poligonale hanno fatto secondo me un ottimo lavoro proprio in generale ed è ancora una volta la testimonianza lo diciamo spesso quando si parla di nintendo switch e di giochi nintendo di quanto comunque la direzione artistica riesca a supportare una console che a livello hardware lo sappiamo ha perso più di qualche colpo ma che alla fine quando si mettono in campo diciamo la bravura e la visione a livello giusto cioè a livello estetico giuste poi riescono a supportare anche appunto magari una potenza che non è al massimo secondo me super interessante assolutamente da tenere d'occhio una delle potenziali sorprese dell'anno nel senso che mi sembra che sia anche un po' passato in sordina e che possa sul finire così di una stagione ricchissima comunque conquistarsi un posto magari sotto l'albero di natale per esempio brava nintendo io non vedo l'ora di giocarci ancora sì secondo me complessivamente insomma sappiamo che nintendo è sempre incline a remake remasterizzazioni a recuperare un pochino i titoli del suo passato in questo caso secondo me l'operazione ha molto senso anche perché poi il gioco formalmente non era mai uscito dai territori usa e giapponesi non era mai arrivato in versione palla sostanzialmente tranne forse nel 2008 mi sembra fosse arrivato su virtual console però non so in quanti poi se lo sono recuperato in quel formato era anche un formato molto legato al retro gaming perché diciamo insomma era la versione precedente senza nessuna operazione di ammodernamento tecnico io sono contento anche che nintendo stia provando un pochino a riportare in auge magari questa formula qui purtroppo alfa dream che citavamo prima è un team defunto e la saga mario luigi diciamo è morta con lo studio di sviluppo se nintendo dovesse registrare appunto non lo so un interesse del pubblico nei confronti di questa formula qui ci potrebbe essere un ritorno incrociamo le dita perché io sono sempre stato molto molto appassionato e chissà pensa che bello dopo 30 40 anni un seguito di un gioco cioè come ha fatto con wing jammers 2 per dire no cioè rifanno un seguito in tutto e per tutto uguale ma a distanza di un sacco di tempo va bene vedremo che cosa succederà noi speriamo con questa anteprima un pochino più contenuta rispetto al nostro standard comunque di avervi fatto piacere ci fa piacere seguire il mercato e dare rilievo a tutti i titoli più importanti che stanno arrivando in questo periodo se vi è piaciuto questo video ovviamente sapete come fare spingetelo con un like un commento iscrivetevi al canale attivate quella campanellina ve lo chiediamo sempre ma youtube ci costringe quindi forza con quelle notifiche sono importanti mi raccomando non sottovalutate lo super mario rpg perché davvero c'è c'è del valore qui dentro va bene grazie e alla prossima ciao ciao